Sono stati 107 gli esemplari esposti a Villa Giulia a Verbania in occasione della diciottesima mostra della Camellia Invernale, organizzata dal Comune di Verbania e dal Verbania Garden Club, con la collaborazione della Società Italiana della Camellia e di Villa Taranto, nel weekend appena trascorso. L'esposizione, curata da Elio Savioli, ha visto come protagoniste le piante del gruppo Camellia Zalea, le rosse Camellia Yuletide, la Cleopatra White, raramente esposta per la sua fioritura precoce, e la Showa Nosakai, dalle tonalità rosa brillante, oltre alle specie Gran Samiana e Crampelliana. Un'iniziativa ormai punto di riferimento per Verbania, il commento del sindaco di Verbania Silvia Marchionini, e che continua a essere occasione di scoperta o riscoperta dello straordinario patrimonio botanico del nostro territorio, per turisti e residenti. Le varietà esposte provenivano dai vivai e dai parchi di Verbania e dintorni, e in particolare da Compagnia del Lago, Savioli, Villanelli, Villa Giuseppina, Villa Maioni e Villa Motta.